Partiamo da quest'idea che cos'è l'antropologia, perché l'antropologia nel suo nome contiene un po' cioè diciamo che il suo nome è una dichiarazione di presunzione, lo studio dell'uomo, l'antropologo di fatto quasi tutte le discipline sono lo studio dell'uomo, lo è la storia, lo è la psicologia, lo è la filosofia lo è anche la medicina, quindi che cos'è che distingue forse da altre discipline? che intanto è lo studio degli esseri umani, cioè non del singolo, ma dell'umano come parte di una collettività e soprattutto l'antropologia studia ciò che sta tra gli individui, cioè in che modo costruiscono le loro relazioni non la psicologia si occupa degli individui, l'antropologia si occupa di che modo costruiscono le relazioni tra di loro, quindi come si organizzano e tra di loro è l'ambiente in cui convivono, che può essere un ambiente naturale ma anche una città. Non è casuale per esempio all'università di Torino dove ho studiato circolava una battuta per cui i filosofi si occupano di Dio, gli psicologi dell'Io e gli antropologi dello zio perché quasi tutti i manuali di antropologia, una delle prime parti dedicati agli studi di sistemi di parentela perché la parentela è il primo modo che abbiamo per organizzare la società, le prime relazioni che abbiamo sui parentesi tutti nel mondo hanno inventato la parentela, ma l'hanno fatto in tanti modi diversi allora è curioso vedere quante sono le possibilità di creare un'organizzazione che a volte si sente dire che esiste famiglia naturale, si sente spesso dire qualcuno di voi ha mai visto un gatto con un cognato o un cavallo col cugino cioè in natura non c'è la parentela, la parentela ce la inventiamo noi e tutto ciò che è prodotto dalla cultura dell'invenzione può avere diverse opzioni per cui studiare il fatto che tutti hanno bisogno di organizzare la parentela ma si può fare in modi diversi questo è uno degli esempi per cui si studia soprattutto il modo di relazionarsi Inventare la parentela in che senso? La parentela di fatto non esiste cioè casomai esiste un legame madre figlio ma è un legame biologico nessuno obbliga la madre a curire il figlio o il padre a curire il figlio e qui già ci vuole un contatto perché noi umani abbiamo bisogno di sposarci o comunque di in qualche modo stabilire un contatto prolungato e gli animali no perché qualunque cucciolo di animale in poche settimane impara a fare tutto quello che gli serve ed è autonomo noi ci mettiamo decenni e neanche dopo non abbiamo mai imparato tutto noi umani siamo l'unico animale che così come non funziona se invece fate caso qualunque specie animale nasce dotata di tutto ciò che gli serve per sopravvivere cioè se nasco al polo avrò la pelliccia se nasco ad romedario avrò una gobba noi non abbiamo pelliccia non abbiamo zanne non siamo particolarmente veloci non vogliamo, non muotiamo quando fa freddo bisogna coprirsi non siamo un progetto ben riuscito e siccome siamo incompleti abbiamo bisogno della cultura per riempire questo vuoto che la natura ci ha lasciato è solo che questo è un processo che richiede un apprendimento molto lungo allora bisogna stabilire un contratto per esempio per accudire i figli nella crescita e poi stabilire che tipo di relazione hai non solo con lo sposo o la sposa ma con la famiglia dello sposo e quindi uno può inventarsi qual è il tipo di relazione che hai con gli zii o con i nonni e questo è il modo di organizzare un sistema di parentela non so se è stato già c'è qualche altra forse vediamo che tutti questi animali hanno tutto ciò che gli serve per sopravvivere sorge la domanda spontanea se l'uomo sia andato per qualcosa di più che semplicemente sopravvivere ma questo non lo so adesso qui vediamo sul piano religioso di certo è che diciamo l'uomo allora sono state tentate tante definizioni per distinguere l'uomo dagli altri animali rimaniamo una delle specie animali ecco tanto per farvi l'idea dal punto di vista genetico la differenza tra il complesso genomico umano e quello dello scimpanzè è 0,6% a me piace pensare anche che sia a favore dello scimpanzè comunque quindi di fatto siamo scimmie il paradosso se vuoi è che proprio l'incompletezza della specie umana è stata la sua fortuna perché la specializzazione quella che hanno tutti gli animali è un vantaggio ma è anche un limite perché l'orso polare non può andare a vivere all'equatore e il dromedario se viene già a Bolzano oggi si gela l'acqua nella gobba e quindi c'è un limite mentre invece noi siamo l'unica specie che può vivere dall'equatore poli in alti piani di 4.000 metri perché perché c'è quella parte non specializzata che possiamo riempire con delle strategie di sopravvivenza che è quella che chiamiamo cultura cultura che va letta nel senso antropologico non quello storico cioè l'accezione storica di cultura è sinonimo di erudizione cultura è una cosa che tu apprendi nei libri letta così è un qualcosa di pochi di quelli che hanno studiato ecco se dico Umberto Eco è un uomo di cultura era un uomo di cultura siamo d'accordo ha letto tanto però era lui invece in senso socio-antropologico cultura è quell'insieme di strategie che ogni società umana ha messo in atto per sopravvivere e si può sopravvivere al circolo polare artico come si può sopravvivere nel Sahara eppure sono della stessa specie quindi in questo senso all'altro domani si può esporre una cosa che una delle differenze quelle definizioni una delle poche che reggono l'uomo ha rispetto agli altri animali una percezione di sé soprattutto del fatto che deve morire cioè noi sappiamo che dobbiamo finire gli animali no lo percepiscono quando probabilmente stanno male ma non hanno la coscienza della morte infatti è una delle poche definizioni che reggono in pieno nella differenza con gli animali tutte le altre sono un po' come una coperta corta reggono un po' ma non del tutto ci sono due definizioni sull'uomo che mi girano sempre in testa una che siamo un animale sociale ma un'altra che siamo un animale asociale socializzato questa seconda potrebbe spiegarla meglio? ma allora questo è un dibattito che è stato molto acceso soprattutto negli anni 20, 30 e 900 anzi in particolare è stato un sociologo filosofo francese Durkheim che si è posto la domanda cioè la società è precedente all'uomo o è l'uomo che crea la società? cioè la sua risposta è la prima cioè che esiste lui chiama una cosa un'entità super organica per cui esiste un concetto di società prima di noi oggi quasi nessuno pensa così la società è il prodotto di una costruzione che però nasce dalla necessità cioè siamo sociali perché non potremmo non esserlo proprio perché non abbiamo la forza di non essere sociali cioè siamo un progetto un po' incompleto un deboluccio rispetto agli altri animali l'unico modo per reagire a tutte queste difficoltà complessità rispondere a tutti i problemi che la vita l'esistenza ci impone è quella di creare un insieme quindi diciamo che siamo un animale sociale ma se vuoi socializzato per necessità non potremmo vivere da soli a parte il discorso della riproduzione ma la riproduzione non è socialità basta pochissimo per riprodursi poi è il dopo che deve essere però abbiamo necessità di socializzare proprio perché non abbiamo questa specializzazione quindi di fatto è vero se io vorrei essere un animale socializzato socializzato però per sopravvivere c'è qualche altra curiosità su questo tema? appunto sempre su questo tema della socializzazione tra gli uomini che abbiamo detto che lo fanno per necessità si relazionano tra di loro per necessità ma il modo in cui lo fanno il modo in cui si relazionano e poi si distribuiscono in gruppi come da cosa è caratterizzato? cioè da cosa dipende? allora partiamo dalle origini perché tutto nasce lì diciamo partiamo dall'origine dell'homo sapiens non stiamo a fare tutta la storia allora un grande forse più importante paleoantropologo cioè studiore dell'antichità che è Andréle Ruaguran in un suo nel suo libro più bello che si intitola il gesto e la parola a un certo punto dice tutto avremmo sospettato fuorché di essere cominciati dai piedi e poco dopo dice la storia dell'umanità è fatta con i piedi perché se non avessimo piedi e questo è un discorso che è molto importante oggi che c'è sentiamo spesso una ritorica delle radici no? se avete caso oggi si parla tanto le radici culturali guardate il fondo delle vostre zampe avete piedi se non avessimo piedi oggi saremmo tutti in una torrida depressione dell'Etiopia dove è nata la nostra specie dell'homo sapiens mentre invece a partire da circa 700 mila anni fa di lì ci siamo sparpagliati allora immaginati che questi primi gruppi di africani che si spostano via via trovano degli ambienti diversi condizioni diverse clima paesaggi animali diversi e in qualche modo cosa fanno? rispondono a queste nuove cose poi un altro gruppo si sposta e trova altre condizioni e deve inventarsi qui comincia a nascere la differenziazione perché perché le condizioni ti chiedono di inventarti qualcosa poi col passare del tempo diciamo che queste unità finiscono anche per auto rappresentarsi per cui ci si inizia a dare dei codici comuni le lingue dei modi di fare dei modi di pensare sempre però tenendo conto del fatto che tutti questi gruppi queste società umane hanno sempre dialogato cioè i piedi hanno continuato a funzionare adesso oggi è un diciamo ormai un 20 quasi 30 anni non so perché in Italia c'è tutto questo problema si continua a parlare di emergenza e migrazione a parte che dopo 30 anni non è un'emergenza ma è vero se noi lo guardiamo nell'ottica breve l'Italia ha sempre esportato gente non importato se noi lo guardiamo con un'ottica più lunga è sempre successo nessuno è mai stato fermo al proprio posto e proprio per questo poi ogni società ogni gruppo si pensa diverso e si pensa unico ma di fatto tutte le culture sono interculturali già perché ci siamo scambiati sempre noi vi faccio questo aneddoto che è anche divertente un antropologo americano Ralph Linton agli anni 30-40 alla prima lezione con i suoi studenti all'università faceva queste cose secondo me i ragazzi statunitensi pensavano che quasi gran parte di ciò che usavano oggetti non grandi concetti forse americani allora lui il primo giorno chiedeva ai suoi studenti quanto di ciò che usate quotidianamente è americano diciamo se andava dal 75% in su allora lui faccia esempio tu stamattina quando ti sei alzata cos'è la prima cosa che hai fatto avrai sollevato adesso me la faccio breve poi se ho letto le indicazioni avrai sollevato un lenzuolo di cotone fibra tessuta in India del VI secolo d'Anticristo poi ti sei alzata e sei privata del pari di ciamati inventato dagli indiani argonchini sei andato in bagno e ti sei lavato lo sapone inventato dall'antica Gallia se fossi stato un maschietto facevi anche quel rito masochistico che è la nasatura che è nata dalle popolazioni poi vai a fare colazione con una scuola di ceramica processo inventato in Cina prendi del tè che arriva dall'India o magari del caffè che arriva dall'Avisinia o magari mangi del cioccolato che arriva dal Meso America poi riesci a comprare un giornale con una moneta invenzione dell'antica linea compri un giornale stampato su carta processo inventato in Cina stampato con caratter mobile inventato in Germania nel 1500 e a seconda delle notizie ringrazi o maledici una divinità ebarica di averti fatto il 100% americano ecco questo è molto più lungo perché non è anche l'infinitiva parte dell'erudizione di Linton ma se vi interessa cercate il 7% americano lo trovate in rete per intero questo ospia ed è un modo molto semplice ed efficace per far capire come persino negli oggetti che usiamo ancora siamo il prodotto di uno scambio millenario infatti ieri ho parlato un po' anche di cibo perché la musica cibo e musica sono ottime metafore della cultura perché funzionano benissimo anche se poi ognuno ripensa quelle cose pensate quali sono i due piatti che hanno l'identità italiana la pizza e gli spaghetti la pizza e gli spaghetti cinesi su tutti e due mettiamo il pomodoro che viene dall'america e però continuiamo a pensare quando uno pensa al tè pensa agli inglesi no? non è che proprio l'Inghilterra sia piena di piantagioni di tè però ecco alla fine noi associamo il tè all'inglese il caffè è italiano però non è che questo è il caffè quindi è tutto un prodotto e anche è stato calcolato che un parlante italiano pronuncia circa il 6-7% di parole di origine arabe tutti i giorni di cui il 90% proprio non sappiamo quali sono qualcuna si può intuire altre no per cui e vale per gli altri non è che vale solo per noi quindi c'è sempre stato un processo di circolazione e poi però ogni comunità si rappresenta come unica allora quando si vuole difendersi di fatto sapete pensate senza la scoperta dell'America mangeremo da schifo perché gran parte delle cose che oggi utilizziamo nella dieta mediterranea c'è la patata e il pomodoro che vengono dalle Americhe quindi c'è c'è sempre un po' una narrazione di questo allora diciamo da una parte questa adottabilità e questa continua a mutare diciamo le nostre strutture sociali e la nostra cultura ci ha permesso di sopravvivere però diciamo noi vediamo una tendenza a voler rigidire il più possibile le nostre strutture sociali sì perché appunto diciamo noi siamo ti ricordo che forse è una delle lezioni che dà l'antropologia cioè quando l'antropologo fa ricerca sul campo la fa diciamo che la definizione migliore è che tormenta gente intelligente con domande stupide cioè tu chiedi alla gente immaginate che viene un antropologo qui da voi e vi fa domande su come fate con chi ti sposi come chiami il padre di tua madre cose che sono ovviamente voi che non siete bugiardi cioè date delle risposte ma quelle risposte non sono la realtà oggettiva sono l'interpretazione che voi fate che tutti noi facciamo e l'antropologo poi interpreta le interpretazioni quindi di fatto cioè è difficile a volte distinguere perché esistono infatti in antropologia si dice che sono due punti di vista etico polemico c'è un punto di vista potremmo dire oggettivo però poi il modo in cui noi percepiamo la realtà a volte non coincide l'altro giorno mi ha chiesto che devo fare una cosa una conferenza sull'immigrazione allora è interessante sono tifatti di sondaggi oggi in Italia la maggior parte della gente pensa che gli immigrati vengano da paesi extraeuropei da paesi poveri che siano tendenzialmente maschi e musulmani i dati statistici ci dicono che vengono la stragrande maggioranza da paesi europei che sono donne quasi tutti i paesi dell'est in Italia c'è un milione e 600 mila badanti regolari che sono immigrati quasi tutte dall'est e provengono da paesi di tradizione cristiana perché sono ortodossi nella maggior parte dei casi altra cosa che chi emigra non è mai il più povero questo è sempre anche quando gli italiani emigra chi è povero non ce la fa a emigrare perché non ha i soldi per emigrare per emigrare ci vuole di soldi qui chi emigrava dall'Italia vendeva la mucca a volte per comprarsi un biglietto della nave per andare da me però dovevi avere la mucca e non tutti avevano la mucca quindi ecco però la percezione che abbiamo è diversa allora da un lato c'è una realtà oggettiva ma noi non siamo razionali viviamo molto di costruzioni di autorappresentazioni e quindi ad essere che c'è una tendenza appunto a irrigidire i confini a autorappresentarci come tutti uguali quando invece poi siamo estremamente variegati anche al nostro interno e questo è un momento anche di particolare irrigidimento e siamo fortemente condizionati dall'interpretazione che ovviamente poi è anche influenzata dai media da tanti elementi ecco che contribuiscono tutte le statistiche ci dicono che i reati nelle città sono in diminuzione ma la maggior parte degli italiani percepisce le città come più pericolose di prima a volte lo sentite anche su cose banali quando c'è temperatura 30 gradi registrata percepita 32 cioè ci sembra che faccia più caldo di quello che fa quindi noi viviamo più di percezioni che non di dati cioè gli scienziati ci dicono i dati quanta gente crede ancora all'esistenza delle razze nonostante la genetica ci abbia già dimostrato che non è possibile classificare le razze basta non abbiamo parlato di musica ma va bene spesso